Borgna-Garelli ballottaggio. Cuneo 7 dedica l'apertura alla politica e alle ultime elezioni amministrative che al termine di una lunga notte di scrutinio hanno visto in città l'affermazione dei candidati del centro e del centro-sinistra. I grandi protagonisti sono loro due che dovranno vedersela nuovamente tra due settimane. Escono di scena dopo il primo turno invece gli altri sei candidati. Grande risalto viene riservato anche ai risultati elettorali di Borgo Sandalmazzo dove si è registrata l'affermazione del vice sindaco Giampaolo Beretta e delle Valli. Infine una curiosità, il nome del candidato sindaco del centro-sinistra Garelli, Pierluigi, sulle schede elettorali era scritto in modo sbagliato. Su Saluzzo oggi attenzione rivolta al trasporto ferroviario e alla raccolta firme promossa da maggioranza e opposizione in piazza Cavour per evitare la soppressione dei treni. Per una volta quindi le forze politiche saluzzesi sembrano unite nel condannare la scelta della regione di eliminare la stazione e spostare tutti i passeggeri sui pullman. Spazio anche alla scelta del sindaco di Castel Delfino, Domenico Amorisco, di far sistemare nella nuova piazza Santi del Popolo numerose statue di Santi a grandezza naturale e alla possibilità che nel 2013 la prima e la terza elementare di San Peire vengano accorpate in una pluriclasse. Qui l'aria è molto pesante, così titola Braoggi con riferimento al fatto che, dopo i primi quattro mesi dell'anno, la centralina di Viale Madonna dei Fiori abbia già rilevato 55 sforamenti. E dire che secondo il decreto legge 60 del 2 aprile 2001 non dovrebbero verificarsi più dei 35 sforamenti all'anno. Spazio infine alla nuova edizione di Bici in Città, che si terrà domenica. Un evento dedicato a piccoli e grandi, che punta sull'educazione alle due ruote come strumento per ridurre l'inquinamento.